Ho fatto la glicemia perché siamo figli di genitori diabetici, la pressione e adesso siamo in attesa della visita oculistica. Bisognerebbe fare più spesso queste iniziative, sono molto importanti anche a livello informativo per gli anziani. Mi piace informarmi sulla mia terza età, informarmi e cercare di vivere al meglio delle nostre possibilità. Fare l'informazione, aderire, conoscere è importante. Ritengo che sia utile venire e misurarsi magari la pressione, una verifica alla vista, vedere se ci sono problemi di glaucoma o eventualmente problemi di diabete, di colesterolo che sono importanti per poter vivere meglio gli ultimi anni della vita. È importantissima perché avvicina moltissimo i cittadini, proprio alla sanità in genere, ma anche ai farmacisti, a tutto il mondo della sanità, ai medici. C'è questo contatto diretto che è molto importante. Grazie. 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 Grazie.